Ancora una volta un bimbo vittima della droga che circola con una certa facilità. Questa volta è successo a Rosolini. Un bambino di 15 mesi, figlio di una coppia che vive nel centro a Retuseo, ha ingerito una certa quantità di hashish. Il piccolo è stato in un primo momento ricoverato all'ospedale maggiore di Modica. Poi, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi di Catania. Il trasferimento è avvenuto in ambulanza. Non è chiaro al momento se è per indisponibilità di elicotteri funzionanti o perché la condizione del bimbo non richiedeva un trasporto urgentissimo. Dopo il primo allarme, le condizioni del piccolo sono in via di miglioramento ed è considerato fuori pericolo. Ma come sempre accade in questi casi, la versione dei genitori non convince gli investigatori. Secondo la coppia, il bimbo che ha 15 mesi sarebbe entrato in contatto con la sostanza stupefacente fuori dall'abitazione di famiglia, nei pressi di una villa. Tocca ora agli investigatori verificare l'attendibilità della versione e accertare se invece la droga non fosse quella usata dai genitori rispetto ai quali in questo caso si potrebbe configurare l'accusa di lesioni colpose per la negligenza del comportamento e l'eventuale abbandono del minore nel momento in cui, non sorvegliato, avrebbe ingerito l'hashish. Grazie. 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 Grazie.